buongiorno a tutti oggi siamo a bellinzona per mostrarvi questo 4 e mezzo locale siamo al secondo piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo corridoio sulla parte destra troviamo un armadio a muro molto comodo e anche uno specchio proseguendo la nostra visita veniamo proiettati in quest'area del soggiorno veramente luminosa grazie a queste porte e finestre sulla parte destra si sviluppa la zona notte e sempre a destra la cucina che vedremo in seguito a sinistra del corridoio d'ingresso abbiamo una prima stanza che può essere tranquillamente utilizzata come ufficio proseguiamo la nostra visita e attraversando la zona giorno entriamo nella zona notte vediamo subito a sinistra la camera padronale una camera di dimensioni veramente interessanti arricchita da un bagno privato composto di idee pc lavabo un'ampia specchiera doccia e vasca alla destra della camera padronale una terza stanza mantenendo sempre la destra abbiamo un secondo bagno composto di specchiera lavabo una grande doccia e vicino ritorniamo nell'area del soggiorno sulla sinistra abbiamo questa cucina veramente grande e ben attrezzata di tutti i comfort partendo da sinistra abbiamo un piano cottura induzione lavabo lavastoviglie forno forno a microonde frigorifero e congelatore ecco a voi un'altra panoramica dell'area del soggiorno dato molto importante c'è una cantina all'interno del quale c'è la predisposizione per lavatrice e asciugatrice e c'è anche un posto attraverso queste porte e finestre possiamo accedere ad un balcone come potete vedere un balcone di dimensioni veramente grandi generose e se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto grazie a tutti